ciao a tutti sono andrea otxd e sono con crisisgamer e oggi allora questo gioco si trova sul play store quindi andiamo sul play store e scriviamo the survivor come c'è scritto qua in alto dove vedete clicchiamo sul primo che ci dà la versione è stata aggiornata quindi la 108 nel mio canale avevo già messo e questa qui è praticamente quella aggiornata l'aggiornamento è questo hanno risolto la camera c'è la sensibilità dello schermo la le munizioni della della revolver e hanno migliorato hanno risolto dei bug in interfaccia dell'inventario bene entriamo nel gioco eccoci ragazzi siamo nel gioco abbiamo dimenticato di dirvi che sul psor lo trovate a pagamento a 2 euro 85 invece su il nostro sito lo potete scaricare grazie esatto sempre la versione 1.0.8 come vedete in alto a destra entriamo nel gioco facendo new game tanto quello che avevo fatto io era una cavolata era solo per provare l'aggiornamento e basta che non salvo quindi mi rimane lo salvataggio vecchio molto bene eccoci nel gioco come vedete la fluidità dello schermo è migliorata di molto se ogni tanto vedete che lo schermo diventa sfocato è perché sto registrando mentre gioco ed è un gioco abbastanza come dire pesante non nel senso che pesa occupa tanto spazio ma non supporta bene la registrazione ecco questo bug non l'hanno gestato guardate sotto l'albero vuoto vuoto l'erba e poi si trasforma subito in legno vabbè o vabbè non posso non gestare la solita corso adesso gli picchio il culo vabbè adesso questo qui è normale perché deve caricare il mondo madonna cara guarda guarda avete una donna madonna si vera pure eh dai dai ammazzo che mori che faccia al sorso non lo so comunque brutto venga c'è un buonissimo come è morto la pancetta la pancetta madonna il coniglio piccolino scappa penso in tempo mi scappa perché ci sono io non manca ma la donna è morto guarda alto c'è la bistecca più grande del coniglio mi da madonna allora ragazzi questo è l'inventario scusate ho sbagliato questo è l'inventario qua c'è il crafting che prendi tu vai a vedere con materiale perché sono un po' armi case esatto ogni volta che clicchi su un oggetto ti dà le case accampamento si accampamento dovrebbe essere questo qua sì questo qua dovrebbe essere questo qua ragazzi e voi lo fate lo ho creato e poi se lo distruggete mi ingerida completamente tutti i materiali che avete utilizzato per costruire la casa e me ne da una gran parte poi dovete ricercare di 25 tra quelle mondo di più se ci sono degli certi modi mi ingerla mindmi questo qui a fa che tanto raffindo sempre la sorta storia bene ragazzi ciao 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 vi designlli miglior Pull azioni Clkk Roll